Questa è la finale regionale, quindi da qui traghetteremo poi, anzi la giuria decreterà le finaliste nazionali che si svolgerà la serata di gala il primo di settembre a Roma con anche lì grandissimi ospiti. Qui da noi al ristorante La Giara sarà una serata veramente piena e ricca sia di emozioni ma proprio anche di tanti ospiti, in giuria e non. Sono circa una ventina di ragazze provenienti da tutta la regione, molto molto carine, ma non perché lo dico io, perché c'è stata già una preselezione un paio di settimane fa al locale del Mediterraneo, Show Restaurant, e quindi sono orgogliosa di portarli in questa serata così importante per loro con, come ho detto prima, tantissimi ospiti. A partire dal Gymnal che ci farà un'esibizione di danza, quindi non solo ritmica o artistica, ginnastica, ma questa volta è danza. Poi avremo due cantanti, una più affermata, sempre marchigiana, Barbara Vagnini, che è una cantautrice, i sound e quelli lì tormentoni estivi, quindi due suoi inediti, e poi abbiamo un vero talento, un vero portento, che è un ragazzino di 12 anni che si chiama Bjorn Aslani, è un albanese ma vive proprio nella nostra regione, quindi quella lì sarà un po' la chicca. Poi abbiamo lo spettacolo del fuoco con Nikita Quinn, le ali con i led, quindi non solo moda, non solo selezione, non solo bellezza, ma anche spettacolo. Per il sociale, perché io tocco sempre comunque un tema sociale, nei miei eventi avremo Ail, Ail Pesaro, purtroppo doveva venire il presidente di Ail e che abbiamo perso una settimana fa circa, Massimo Sierra, ma dedicherò la serata a lui perché è veramente una persona eccezionale, ha sempre teso una mano a tutti e io in questo modo voglio che gli altri tendano una mano ad Ail e rappresenterà Ail Pesaro per i suoi 50 anni l'ematologo Marino Brunori. Abbiamo anche tanti premi, sono molto contenta perché possiamo veramente fare una pioggia di premi a queste ragazze, premiarle e oltre con l'attestato di partecipazione a tutte avremo due fasce regionali molto importanti che sono di bulgherini ascensori e Alice e abbigliamento, che saranno parte dalle fasce ufficiali e nazionali e poi ecco, Stella Scarpa donerà un cadeau dei suoi prodotti, alla prima invece di Miss Grande dona un trattamento molto particolare e speciale che fa solo lei e poi Attual Viaggi con un box travel, Emanuele Gambini che anche Orafo ha realizzato per l'occasione, come pensate, un anello con una forma di cuore proprio per questa occasione e poi dai tanti altri premi e non mi resta che invitarvi a questa serata, come dicevo prima, non solo di cena e spettacolo e bellezza ma veramente piena di tantissime cose ed emozioni.